Bentornati sul nostro canale. Se non sei siete iscritti fatelo per rimanere sempre aggiornati. Un'improvvisa notizia ha riportato la famiglia Schumacher sotto i riflettori, svelando gli sviluppi nel mondo della Formula 1. Nove anni fa, durante una vacanza sulla neve, l'ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher ha subito un grave incidente che ha rischiato di costargli la vita. Da quel momento, la vita dell'ex icona della Ferrari non è più stata la stessa. L'incidente gli ha causato gravi lesioni fisiche che hanno richiesto cure intensive per il sette volte campione del mondo. La famiglia, seguendo una strategia di massima riservatezza riguardo alle condizioni dell'ex pilota, ha continuato a sostenerlo e a dedicarsi alla sua guarigione. Oggi, l'ex pilota della Ferrari sembra stare leggermente meglio, anche se gli anni persi non possono essere recuperati, e cerca di godersi i successi del figlio Mick. Mick Schumacher, anch'egli pilota di Formula 1 con un futuro promettente davanti a sé, è stato indicato dagli esperti come uno dei talenti emergenti nel mondo delle corse, tanto che diverse importanti scuderie hanno iniziato a seguirlo da vicino. Il suo desiderio è quello di seguire le orme del padre e, stando alle ultime notizie, sembra che stia procedendo nella giusta direzione. Nato nel 1999 e cresciuto nel mondo delle corse, Schumacher GR ha recentemente impressionato con la McLaren durante i test svolti presso il circuito di Portimao, in Portogallo, ottenendo risultati molto positivi. Pertanto, in vista della prossima stagione, è stato confermato come pilota di riserva, nel caso in cui Lando Norris e il debuttante Oscar Piastri non dovessero farcela. Sarà quindi il figlio d'arte a scendere in pista. Questa è un'opportunità attesa da una vita che finalmente potrebbe diventare realtà. La famiglia non può che essere felice dei progressi compiuti dal giovane Schumacher in questi anni. La speranza dei suoi tifosi e di quelli di suo padre è che Mick possa fare almeno la metà di ciò che suo padre ha fatto nella sua brillante carriera con la Ferrari. Michael Schumacher è sempre stato considerato uno dei migliori piloti che la Formula 1, un'icona di questo sport dedicato alla passione per i motori.